Quindi sono state premiate degli artisti. Adesso, cosa succede? Adesso questi artisti sono sottoposti a un'ulteriore prova per ottenere il premio finale assoluto che si tratta di una cifra in denaro offerto dal sindaco del comune di Rorà. Dal comune di Rorà. Grazie. A cavolo. Questa cifra verrà vinta da un solo concorrente. Come vi ho detto, cinque buste. Adesso un bambino mi tirerà a sorte una di queste buste. Dentro queste buste ci sono cinque argomenti, rigorosamente scelti da cinque giudici del Muse Otis. Perciò, a caso, verrà scelto un argomento e i concorrenti sono tenuti nel giro di un'ora a scrivere con questo argomento che viene scelto adesso da qualcuno, da qualche bambino che non vedo mai. Guarda, guarda, scusa, qua, qua, scusa. Dov'è? È arrivata, è arrivata. Allora, di come ti chiami, come ti chiami, aspetta che... Vittoria. Vittoria. E come mi chiami a me, eh? Come mi chiami? Danieluccio. Danieluccio. Allora, Vittoria, scegli una busta, quella che vuoi. Questa qua. Grazie, adesso me la dai. E io leggo l'argomento che è stato scelto. Controlla bene anche tu, eh, però. Un argomento semplicissimo. L'amore in tutte le sue sfaccettature. Un argomento scelto da Fabrizio Legger. In tutte, proprio, tutte... In tutte le sue sfaccettature. L'amore. In tutte le sue sfaccettature.